Mi permetterete un saluto speciale a Sua Eccellenza il prefetto, il nostro nuovo prefetto che è qui tra noi e lo accogliamo davvero con tanta cordialità e gratitudine per il servizio delicato che viene a fare in noi, in mezzo a noi e per noi. La messa di ringraziamento con il Tedeum in Duomo può essere considerata la prima uscita ufficiale per il nuovo prefetto di Como, Bruno Corba. Ieri l'insediamento negli uffici di Via Volta, oggi l'ultimo giorno dell'anno, è stata l'occasione per salutare e conoscere autorità cittadine, civili e religiose, amministratori locali e forze dell'ordine. Stamattina Corda ha incontrato il sindaco Mario Lucini e il commissario dell'amministrazione provinciale Leonardo Carioni, primi colloqui per conoscere le esigenze e le criticità del territorio. Il nuovo prefetto ha sostituito Michele Tortora, trasferito a Ferrara. Sono consapevole dell'onore e nel contempo della grande responsabilità di operare in una provincia così ricca di storia e contraddistinta da tradizioni di esemplare civiltà, laboriosità, dinamismo, profonda cultura e radicato rispetto della legalità. Queste le prime parole di Corda. Salvaguardia della coesione sociale, cooperazione tra le istituzioni, questi i principi ispiratori che guideranno l'attività del nuovo prefetto di Como. Salvaguardia della coesione sociale, cooperazione tra le istituzioni, questi i principi ispiratori che guideranno l'attività del mondo.